Un uomo amato, chiamato e inviato è il tema della mostra dedicata a Frarocco Quattrocchi che si tiene nei locali della Salone Parocchiale della Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Gela in occasione del primo anniversario della scomparsa della sacerdote gelese. La mostra ripercorre il cammino francescano di Frarocco Quattrocchi scomparso lo scorso anno a causa di un male incurabile. Attraverso l'esposizione allestita dalla parrocchia di Via Cappuccini, di cui era sacerdote, si vuole rendere omaggio alla figura del sacerdote, tanto amato in città che sposando la regola francescana con il sorriso e fino alla fine ha lottato per la vita, accogliendo il dolore come una grazia. Questa mostra poi un po' ripercorre la vita di Rocco, dalla sua nascita, dall'ingresso in convento, dalla sua vocazione, il suo essere sacerdote qui tra noi. È stato un modo in cui visibilizzare ancora di più la memoria di Rocco tra i parrocchiani e tra noi come comunità. Credo che lui se lo merita e noi siamo stati contenti di realizzare questa mostra per lui. Cosa ha lasciato Frarocco? Guarda, Rocco ci ha lasciato un approfondimento innanzitutto del nostro carisma, come avvicinamento al popolo, alla città, il suo modo di essere sacerdote, di essere fratti, un uomo di dialogo, un uomo di pace, molto accogliente, sempre con un bel sorriso in faccia, il volto veramente che risplende del Vangelo. La mostra è stata molto seguita perché molti ragazzi hanno voluto toccare con mano la presenza anche attraverso le foto di Frarocco. Sì, perché è stato non solo un ricordo, ma un rivivere certi momenti. Rocco è stato il suo sguardo, gli incontri che ha vissuto con tanti parrocchiani, non solo ripercorre la sua vita, ma stare un po' con lui, possiamo dire, in tutto ciò che ha fatto in questa realtà cappuccina nostra qui a Gela. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 12 giugno prossimo e sarà visibile tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.00.